Andiamo a Grosseto per chiudere questo campionato, per chiudere quella vittoria e cercare il massimo, per dire che abbiamo raccolto il massimo. Quello che vi ho detto all'inizio mi ero posto di arrivare a 15 gol, i 15 li ho superati, sicuramente ora quello che viene è tanto ribadagnato, però certamente che fa il gol fa piacere e se viene è tanto ribadagnato. Già l'anno scorso l'ho stata fascia da capitano e mi ha responsabilizzato molto, poi con l'esperienza si cresce, ho fatto molta esperienza, stagioni negative e stagioni positive, poi la fiducia del Ministro e dello Stato, Sono sincero, io finora non ci ho mai pensato, perché quando uno non ha coppia, ha la coscienza punta a chi deve pensare, va per la propria strada. Se avevo pensieri o dubbi o non stavo bene con me stesso sicuramente non avrei fatto quello che ho fatto finora, perché sapete tutti, se un giocatore non sta bene con la testa non reagisce in questo modo, quindi io sto così sereno e tranquillo perché non temo niente e non ho paura di niente. Io ho il contratto fino al 2015 qua, ho rinnovato l'anno scorso, quindi sicuramente sto bene, per la posizione che ho, quindi sarebbe bello continuare con questa società, con questa squadra, con i pari. Però vedremo con il tempo cosa uscirà fuori. Noi sappiamo pochissimo, anzi, o meglio nulla, perché devono risolvere meglio questa situazione. Spendiamo che si sa qualcosa più presto perché vogliamo sapere anche noi come muoverci e cosa fare. Diccazzateci! 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 Questo è il gruppo.